Dal 1 luglio al 31 agosto è estate tra le valli del Gran Sasso. La comunità montana Gran Sasso presenta infatti il cartellone unico degli eventi culturali ed enogastronomici che animeranno nella stagione 2016 il comprensorio che annovera dieci comuni dell'entroterra Arsita, Castelcastagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola, Montorio, Pietracamela e Tossicia. Abbiamo riunito i sindaci che fanno parte dell'ex comunità montana e abbiamo detto per cercare tra luglio ed agosto di mettere in rete le migliori manifestazioni che ogni comune ha e siamo riusciti a creare questo programma che adesso andrà in rete tramite la DMC, tramite tutti gli enti promozionali e quindi presenteremo tutte le manifestazioni che con molta difficoltà vengono fatte all'interno della vallata del Gran Sasso. Questo è un inizio, stiamo discutendo ancora di quello che succederà ad esempio su Open Day dove insieme si continuerà a fare questa attività però è un grande segnale per il territorio, cioè finalmente un po' di persone hanno capito che bisogna lavorare insieme lavorando insieme si arriva anche al turista, quindi questa sarà la grande strada. A fianco a questo c'è la DMC della quale io sono presidente, la DMC del Gran Sasso Laga che va a coinvolgere non gli enti ma gli operatori e quindi insieme a questo calendario c'è un altro calendario fatto dagli operatori che danno ulteriori opportunità al territorio e ai turisti. Grazie 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 Grazie